Questa era una panoramica iniziale su Flutter, quindi abbiamo visto come configurare l'emulatore, questo che vedete è Dart, è un linguaggio di programmazione oggetti, allora iniziamo cancellando il tutto, cancelliamo tutto quanto questa cosa, anzi cancelliamo fino a qua, cancelliamo tutto ma questo mi serve e adesso vi spiego anche perché, ok cancelliamo tutto, allora questo è il package di material, è il package di Flutter, ora abbiamo visto prima che c'era un void main, questo è il punto di partenza, se vedete quando io scrivo void main qui mi appare praticamente la possibilità di lanciarlo, ora se io salvo e provo a fare un autre load, e inizia a darmi errori, perché? Perché non c'è niente, cosa serve per lanciare praticamente un'applicazione Flutter? Qui dentro devo mettere run up, se guardiamo qui, Flutter si basa su dei widget, i widget cosa sono? sono dei componentini, solitamente di layout, che servono per creare ad esempio la nostra interfaccia, ok? Quindi qui per fare questo run up, ok, peraltro fa parte di questo package, cioè se io tolgo via il package, qui mi da errore, ok? quindi mi serve il package, qui devo dirgli come parametro di ingresso un widget, allora il primo widget che andremo a vedere è Material App, Material App è nient'altro che un widget che mi dice, ok, questo lancia un'applicazione di tipo Material App, e qui magari gli sviluppatori iOS dicono ma io non vorrei usare Material, si è vero, ma questo serve per iniziare a creare un'applicazione mobile, ok? Poi vedremo gli switch da fare per quanto riguarda un'applicazione iOS Material, non questa sera, è troppo prematuro, iniziamo intanto a prepararci a creare questa applicazione. Andiamo avanti, ora, andiamo, prima di proseguire, prima di mettere qualcos'altro, vi faccio vedere una cosa, una cosa sul linguaggio Dart, ok? Andiamo qui, questo DartPad, questo salvatelo come link, praticamente, è per provare Dart, per provare magari come funziona il linguaggio, potete fare diversi test, ok? Allora, come vedete, anche in questo caso c'è un void main, se io lancio qui, l'ho fatto tutto quanto da browser, cosa fa? C'è un ciclo for, stampa dieci volte, hello, ok? Ma vi faccio vedere una cosa un po' differente da Dart rispetto ad altri linguaggi, ok? È differente, è differente neanche proprio tanto, però vi faccio vedere due cosine, vi faccio vedere la differenza tra il position versus named parameter, Ok? Creiamo una funzione molto semplice, void add, ok? A, B, ok? Con le grafe, vedete, creiamo lo scope, e qui posso fare print a più a più b, ok? Qui mi sta dando errore, perché non è definito, a non è vb, ma è b, ok? Questo è una funzione con i parametri di tipo posizionale, cioè dovrò mettere il primo valore in a e il secondo valore in b, ok? Quindi se io qui adesso richiamo la funzione add 10,20, il primo parametro è a e il secondo parametro è b. Se lo lancio, ovviamente la somma di a più b è 30, ok? Questo è un posizionamento di tipo, è un dei parametri di tipo posizionale, quindi in base all'ordine dei parametri, devo anche chiamare la funzione seguendo l'ordine dei parametri. Ma, e questo è position, ve lo metto così, in commento, position, ok? Possiamo però definire, adesso vi faccio vedere un'altra funzione con i parametri di tipo named, facciamo void add, graffa, a, b, e poi qui ci copiamo, non add, ma add named, ok? E qui facciamo print a, b. Come vedete, la funzione è sempre la stessa, ma per chiamare questa, add named, ok? Se io faccio col controllo spazio, mi salta fuori il teleSense, devo definire i parametri, posso fare b.20, a.10, ok? Se adesso io lancio, il risultato sarà sempre 30, ok? Non vi fidate? Facciamo 30, così la somma è 40, ecco. Quindi io posso avere delle funzioni che chiamo con le variabili di tipo posizionale o delle funzioni con dei parametri di tipo nominativo, ok? Ci siamo. Se io non definisco a, in questo caso, faccio run, ovviamente qui mi dà uno script error perché sto facendo un a più b e b non è definito, e a non è definito, ok? Ok, ritorniamo quindi sul nostro, sul nostro Android Studio, ok? Siamo ritornati su Android Studio, questo per farvi capire che cosa? Che qui, ad esempio, se vado in Material App, vado a vedere praticamente i parametri che ha necessità questo widget, e iniziamo a chiamarli con il nome corretto, quindi questo è un widget. Se andiamo contro spazio, ecco qui. Vedete? Qui c'ho la key, che praticamente è la chiave del widget, ma non ci serve, lo fa in automatico Flutter per noi, e varie property, ok? Vedete quante ce ne sono? Ottimo. La più importante che noi abbiamo su questo widget è Home, e quindi qui mettiamo Home, due punti, e qui ci possiamo mettere un altro widget. Quindi vedete che i widget vanno ad alberatura, cioè metto un widget dentro un altro widget, dentro un altro widget. Ok? Quindi segue una struttura quasi ad albero, ok? Quindi qui su Home usiamo un altro widget, che è Text. In questo momento mettiamo semplicemente un Test. Come vedete mi sta dando un errore, perché mi dice, guarda che un positional argument, e il positional argument adesso sappiamo cosa significa, è atteso, cioè è Required, ma non l'abbiamo ancora definito. Il positional argument è un testo, ve lo dico io, quindi qui ci mettiamo le stringhe, e ci mettiamo scritta Hello World, classico Hello World, ok? Qui mi sta dando un errore perché ci vuole il punte virgola, salviamo, e andiamo a vedere. Adesso ovviamente devo fare un author load, ecco qui. Come vedete abbiamo creato la nostra prima applicazione, per carità, un po' bruttina, eh? Abbiamo un Hello World rosso, questo è scritto sotto giallo, è un po' bruttino, però abbiamo creato la nostra prima applicazione Android. Ora, vedete qui, mi sta dicendo, guarda, usa const per migliorare le performance. Aggiungiamoglielo, ok? Vedete che magicamente scompare questa londina sotto. Adesso fra un po' vi spiego meglio che cos'è const. salviamo, proviamo a fare un refresh o anche un author start. Come vedete non è cambiato niente, continua a funzionare. Guardate una, intanto una sottilezza. Vedete qui? Qui ci ho messo una virgola. E sembra quasi un errore di istrazione. In realtà, per, diciamo, ordinare il codice, potete mettere una virgola e se fate reformat code with data format, come vedete, riformata automaticamente il codice e lo riordina. Per dare varie cose, questo lo trovate anche in Visual Studio Code, nel caso in cui volete usarlo, mi dice che qui termina Material App. Perché hanno fatto questo? Perché man mano che andremo avanti ad aggiungere dei widget, vedrete che questa alberatura inizierà a essere sempre più complessa. E questa complessità, praticamente, a un certo punto, se non fate poi un refactor del codice, vi creerà qualche problema. Quindi ci vengono in aiuto dicendoci, guarda che qui chiudi Material App. L'altra cosa che vi devo dire, che Dart è un linguaggio di tipo type safe, che significa, qui ci ho messo una stringa, se ci mettessi un numero, mi dà errore. Non riesce a compilare. Perché è type safe? Perché? Perché questo texto, questo text, questo widget text, ha string this data, ok? Poi andremo a vedere perché this data e cosa significa. Però abbiamo string, quindi il primo parametro deve essere tipo stringa, perché è type safe, quindi qui ci possiamo mettere di nuovo il nostro hello world. Ora però, diciamo che ancora non è proprio carino. Magari sarebbe carino mettere l'hello world in centro, no? Perché così magari abbiamo... Abbiamo... Vabbè, facciamolo, faccio prima. Ora, Android Studio e anche Visual Studio Code per Flutter, ovviamente su Visual Studio Code dovete installare l'estensione per Flutter, ok? Per Flutter, per Dart. Però, se usate Android Studio come lo uso io, avrete già tutto quanto in automatico. Qui appare la lentina. Se la clicco, vedete che qui ci sono questi wrap. Ok? Usiamo il wrap with center. Guardate che succede. Se lo clicco, mi mette un widget con il child, il text, eccetera. Se adesso io qui ci metto la virgoletta, come abbiamo fatto prima, reformat code. E adesso vedete che c'è un'alberatura, quindi run up, material up, center, text. Se adesso salviamo e rinfreschiamo, magari con not restart, ecco, l'hello world adesso è in centro. Ok? Ora però continua a rimanere sfondo nero e questa scritta brutta. In effetti qui, invece di mettere il center, andiamo a vedere un altro widget. Facciamo wrap with widget. Ora vedete che qui mi ha scritto widget senza niente, perché ne ho scelto uno generico. Qui ci mettiamo scritto scaffold. Ovviamente qui il child non gli piace, devo mettere body. Come vedete, allora, abbiamo material up con named position home, scaffold con named position body, center e text. Ora salviamo, andiamo a fare un'altra start. Ed ecco qui, abbiamo eliminato lo sfondo nero e l'hello world. Ora voi potreste dirmi, eh vabbè, ma tu conosci questi widget, come facciamo noi a conoscere praticamente i vari widget che ci sono? Semplicissimo. Se adesso ritorniamo al nostro browser web, ok, eravamo su dartpad, ritorniamo nel nostro flutter dev, ok? Qui andiamo a vedere nella user interface widget catalog. E qui trovate tutti i widget che volete, ok? Ad esempio, il testo, che è quello che abbiamo visto, abbiamo il text. Oppure, se andiamo qui, basics, ok? Qui abbiamo l'app bar, il column, il container, flutter logo e via dicendo. E lo scaffold, che è quello che abbiamo usato, ok? E qui, se leggete, implementable basic material design, visual layout extractor, ok? Per questo, mettendo lo scaffold, si è sistemato e si è organizzato il tutto, ok? Dopodiché, se andiamo sul layout, ecco qui, ci abbiamo il center, ok? Quindi, se volete vedere, ce ne sono una marea, ma non solo flutter mette a disposizione una marea di widget, ma poi andremo a vedere nelle altre lezioni, che possiamo aggiungerne anche di nuovo e possiamo anche crearne noi di nuovi, ok? E quindi abbiamo messo finalmente questo hello world. Fino a qua, diciamo che siamo arrivati a un buon punto. Perfetto. Però, nel center, ok? Che possiamo fare? Possiamo fare, qui ad esempio, nello scaffold, qui dentro, ok? Se appare la lentina, se ci dà aiuto, non lo vuole fare, vabbè, lo facciamo a mano. Qui possiamo metterci un container, ok? E qui ci mettiamo child, spostiamo tutto questo cosa qui dentro. Non so perché la lentina è scomparsa, magicamente è scomparsa, ok? Ah, eccolo qua. E c'ha ragione, scusate. E c'ha perfettamente ragione. Ok, ritorniamo e rilanciamo. Allora, abbiamo il container. Perché abbiamo aggiunto un container? Adesso vi faccio vedere, intanto per farvi vedere un altro, diciamo, widget. Ma, cosa più essenziale, ora, come vedete, stiamo usando dei, in questi casi, dei position, dei named parameter. Ad esempio, se io metto il container, che posso fare? Posso, ad esempio, customizzare il colore di background. Allora, uso decoration. Il decoration, se andiamo a vedere sopra, mi dà decoration. Se però scrivo decoration, e vado a vedere che cos'è, è una classe astratta, ok? Infatti, nel container, per mettere la decorazione, adesso vediamo, vi faccio vedere cosa significa, mettiamo box decoration, ok? Box decoration serve per customizzare un container. Quindi, se ad esempio metto color, e qui mettiamo colors.red, sempre la virgoletta, salviamo e andiamo a fare l'outroload. In questo caso, devo fare... Eccolo qui. Abbiamo la nostra applicazione di color rosso. Tanto vedete com'è semplice sviluppare un layout all'interno di Flutter. Ma, ovviamente, non c'è soltanto il colore rosso. Ad esempio, tra le varie properties, vedete qui ci sono i bordi, via dicendo, posso metterci il gradient. E quindi, magari, fare un linear gradient. Qui, se andiamo a vedere, c'è colors, per dargli un effetto di sfumatura, tipo gradiente. Adesso lo andiamo a fare così. Lo vedete insieme con me. Colors prende una lista di colori. Come si fa in Dart a passare un array di colori? Quello è prendere i quadri. Quindi, ad esempio, possiamo dire colors.red, virgola, colors.orange. Ok. Salviamo e andiamo a fare un reload. Ecco qui. Abbiamo un gradiente. Vedete? Parte dall'arancione e arriva al rosso. Ma se lo volessi fare trasversale, tra i vari parametri del linear gradient, c'è il begin. Come vedete, il begin mi dice che è un alignment geometry. Quindi, alignment geometry punto... No, alignment geometry, scusatemi. Alignment punto, diciamo, top left. E dove deve finire alignment punto e bottom right. Salviamo e andiamo a rinfrescare la maschera. Ecco qui. Voi forse non potete apprezzarlo, ma vi garantisco che il rosso parte qui e fa questa linea... ...questa linea qui di gradiente. Ok. Poi ci sono altre impostazioni. Andate alla vedere. Poi se andate sulla documentazione trovate tutto quello che riguarda praticamente la colorazione e via dicendo. Va bene? E quindi abbiamo fatto il decoration. Come vedete, continua a dirmi... Oh, metti un cost. Quindi mettiamo un cost. Perché il cost? Adesso ve lo spiego. Il cost si mette perché è un'automizzazione. Quando è che si mette il cost? Quando praticamente all'interno del nostro widget non cambia mai. Prima mi dava errore perché in realtà il container qui poteva avere dei cambiamenti. Ok? Perché ci sono delle variabili. Poi andremo a vedere magari creando proprio assieme qualcosa la differenza tra const e final. Ve lo anticipo. Oltre a const, dart c'è anche final. E vedremo qual è la differenza tra const e final. Però al momento quello che ci sta dicendo è mettici un cost. Perché? Perché viene ottimizzato. Altra cosa che non vi ho detto. Flutter dovrebbe avere nel refresh di un'applicazione Android, se non ricordo male e non sbaglio, 60 fps. Quindi dovrebbe aggiornare la vostra applicazione in modo molto veloce e molto reattiva. Ovviamente se voi usate le ottimizzazioni che vi vengono anche suggerite. In questo caso, quando mettiamo const, praticamente non ricrea il widget. Ve lo lascio passare così, ma poi ci ritorneremo un pelino meglio e lo andremo a dettagliare un pelino meglio. Ma stasera, eh? Quindi non è che dobbiamo aspettare tante cose. Ok? Come vedete però, abbiamo aggiunto Material App, Scaffold, Container, Box Decoration. Vedete che la ramificazione... Magari facciamo anche un reformat. Vedete che la ramificazione... Qui mettiamoci un'altra virgoletta... Inizia a essere un po' pesante. Ok? Peraltro qui, se andiamo a vedere... Non questo... Non era qua? No? Qui ci sono il performance... No, non mi interessava questo. Mi interessava il Flutter Outline. Però per qualche cavolo di motivo... Non me lo fa vedere. Vabbè. Doveva esserci il tree degli oggetti. Si vede che... Android Studio ogni tanto succede che si impalla. Vabbè. Niente di grave. Ok? Quindi vedete che inizia a ramificarsi. Ora, per sistemare e rendere leggibile il codice... Cosa facciamo? Possiamo estrarre e creare... A nostra volta, praticamente... Ad esempio, in questo caso... Un container gradient. Ok? Perché magari poi lo riuseremo in diversi... In diversi altri moduli. Non è questo il caso, ma è solo per farvelo vedere. Ok? Quindi seleziono qui... Il nostro container. Lo taglio. Ok? E qui creiamo class. Come lo chiameremo? Container. In realtà poteva farlo Android Studio. Ma ve lo voglio far vedere a mano... Che cosa significa... Container gradient. Ok? Quindi stiamo creando il... Il container gradient. Ok? Quindi... Abbiamo creato la classe. Ok? E qui... Come vedete abbiamo creato una classe. La classe è come se fosse un oggetto. In realtà qui vogliamo estrapolare un widget. E Flutter dobbiamo fare un extens. Che cosa? Di uno stateless. Stateless widget. Ok? Di uno stateless widget. Ovviamente mi sta dando un errore. Mi sta dando un errore perché ha bisogno... E... A parte che è una classe e no... Non ha funzione. Mi sta dando un errore perché mi dice che gli manca un metodo. Ok? Che viene determinato questo tasteless widget. Se andiamo a vedere... Questo stateless widget estende widget. E poi vedremo perché stateless widget. Ok? Senza andare a vedere troppo il codice sorgente. Se ritorniamo qui... Andiamo qui. Gli diciamo create... E... Missing... Della function. Ecco qui. Ha bisogno di questo widget. Vedete? Cosa succede in pratica? Noi stiamo creando uno stateless widget. Quindi stiamo creando un widget. Questo build sarà quello... Di layout che andremo a vedere poi nella nostra applicazione. Faccio prima farvelo vedere chi a spiegarvelo. Copiamo il codice che avevamo incollato prima. Facciamo un return qui dentro. Ok? Qui non sarà più una virgola ma un punto in virgola. E qui abbiamo creato un nostro widget customizzato. Ok? Quindi una classe. Container gradient. Estende un stateless widget. E qui abbiamo il nostro widget. Come faccio a usarlo qui dentro? Semplicemente container gradient. Ok? Mettiamoci la virgola alla fine. Salviamo il tutto. Proviamo a rilanciare. E come vedete funziona. Io qui metto un, due, tre. Salviamo. E continua a funzionare. Ok? Quindi ho creato praticamente un nuovo widget basato su altri widget. Quindi intanto qui un po' più ordinato il codice. E qui vedo un pelino meglio il nostro widget. Ovviamente nello stesso file qui dentro non è proprio opportuna. Quindi cosa facciamo? Tagliamo via questo. Qui creiamo un nuovo file. Come l'avevo chiamato? Container. Container underscore gradient. E non gli avevo detto di fare un dart? Vabbè. Eh? Dart. Ok. Perfetto. Come vedete il naming del file l'ho dato tutto quanto in minuscolo. E quando c'è un uppercase gli do l'underscore con la G minuscola. Ok? Qui adesso mi dice che non sa dove andrà a prendersi lo stateless widget. Quindi lo andiamo a importare. Non copertino ma material. Vi dàvi intanto vediamo material. Ok? Qui cosa mi dice? Mi sta dicendo che non c'è un costruttore. Ma lo vedremo fra poco. Quindi abbiamo creato questo nuovo widget. Ovviamente il main mi sta dicendo. Il main mi sta dicendo che non riesce a trovarlo. Qui possiamo eliminare tranquillamente questo. Se andiamo qui sopra. Import. E qui c'è il primo modo per poter importare un file all'interno della nostra applicazione. Ok? Quindi cosa ha fatto? Un import di containergrounded.art. Ok? Se salvo e rilancio. L'applicazione funziona come prima. Non è cambiato nulla. Ok? In realtà la cosa secondo me più diciamo che può tornarci più utile. Invece di farlo così, quindi con un riferimento di tipo relativo del file, possiamo invece fare package, due punti. Qui gli diamo il nostro namespace e non namespace ma il nome della nostra applicazione, prima puntata, barra, e qui se facciamo controspace salta fuori containergrounded. È sempre la stessa cosa e io prediligo dagli package, prima puntata, containergrounded, perché magari poi potreste creare anche altre librerie o altri oggetti che poi li portate dentro. Vabbè, diciamo che questo secondo me è il modo più carino di poterlo fare perché so dove sta il containergrounded. Non cambia assolutamente nulla, facendo relativo oppure no. Ok? E la cosa funziona. Ritorniamo al nostro containergrounded, quindi lavoriamo specificatamente all'interno di questo nostro widget customizzato e prima se andavamo a vedere qui sopra, non so perché mi salta fuori sempre questo app, mi dice che questo widget deve avere un parametro con key, ok? Cosa mi sta dicendo? Che devo creare un costruttore. Se io adesso ci metto add key, ecco qua. Lui mi ha creato const containergradient superkey. Perché const? Perché qui non c'è nessuna variabile. Se io qui definissi var pippo uguale apice apice, come vedete mi sta dicendo che c'è un errore. Perché? Perché abbiamo definito una variabile all'interno della classe che mi sta dicendo che questa potrebbe cambiare. Il compilatore di Dart non può sapere se effettivamente cambio o non cambio questa variabile. Se io la mettessi const, a parte che non funzionerebbe, dovrei mercarla anche static, se non ricordo male. Prima static, poi const. Se lo faccio così, a questo punto il const va. Cosa significa static e const? Static significa che è una variabile di tipo statico e const che non verrà, non si cambierà mai. Però cancelliamo via questo. E qui abbiamo questa sintassi. E superkey significa super chiama una variabile che è definita nel child che sto estendendo, quindi super. Sto settando una variabile key che viene passata a questo container grade. Ma non l'abbiamo mai passata. Esatto, perché lo fa Flutter per noi, ok? Quindi dà una specie di chiave al nostro widget. Possiamo però anche definirla. Facendo così non è cambiato niente. Però qui abbiamo un testo e vogliamo dare la possibilità a questo widget di avere un testo customizzato. Ci mettiamo qui, prima della parentesi graffa, ci mettiamo ad esempio text. Ok? Se lo metto così, mi verrebbe da dire, ok, questo text lo posso mettere qui. Intanto se metto text, guardate, mi sta dando errore. Mi sta dando errore, vabbè, perché mi sta dicendo di mettere un cost qui. Ok? Io metto un cost, però mi dà un errore qui. Mi dice, vedete che mi sta dicendo, non so se lo apprezzate, eccolo qua. One positional argument expected, cioè mi sta dicendo, guarda che hai aggiunto un argomento tipo posizionale. Questo l'abbiamo visto prima. E è richiesto. Quindi qui, ad esempio, possiamo metterci hello world from which. Ok? Quindi, qui gli stiamo dicendo la variabile posizionale che abbiamo detto prima, e qui ce l'ho. A questo punto qui mettiamo text. Ok? Guardate un po', però, text, nonostante me l'abbia chiesto, mi sta dicendo, guarda che non esiste, Perché? Perché se io voglio posizionare qui un parametro e farlo vedere poi nel build, devo creare una variabile all'interno della nostra classe. Quindi facciamo string, text. Ok? Ma mettendo string text, guardate qui, mi dice, intanto mi dice che non posso definire un costruttore tipo cast. Per forza, perché c'è una variabile di tipo test. Ok? Quindi qui cancelliamo il primo problema. Dopodiché, se andiamo a vedere qui, mi dice, Annullable instance field text must be initialized. Cioè, mi sta dicendo, guarda che questa variabile mi sta dicendo che dobbiamo inizializzare l'istanza del campo field. Mettiamoci text1, tanto per capirci meglio. Andiamo di nuovo sopra. Andiamo a vedere cosa ci sta dicendo. Ci sta dicendo che la variabile di classe, che non è nullabile, deve essere inizializzata. Come si fa a inizializzare questa variabile di classe come parametro? Come abbiamo fatto con super key. Solo che invece di metterci super, mettiamo un bis.text1. Allora, cambiamo text. Ok? Così mettiamo bis.text1. Ok? In questo momento, il testo che passeremo alla nostra classe, verrà assegnato a questa variabile. Ora, qui ci sta dicendo che non possiamo più usare il cost. Guardate bene, mi sta dando l'errore sulla variabile, ma ci sta dicendo che il valore che passiamo qui dentro dovrebbe essere una costante. In realtà, text non è una costante perché ci viene passato come parametro, quindi qui dobbiamo cancellare cost. E quindi qui viene tolto via l'errore. Se adesso salviamo il tutto e proviamo a rilanciare, ovviamente nel container gradient qui dobbiamo togliervi anche questo const. Vedete? Mi sta dicendo, guarda che non posso invocare il costruttore con una variabile non const. Vabbè, abbiamo capito che è il const. Ok? Rilanciamo. E finalmente, hello world from twitch. Ok? E quindi siamo riusciti a passare al container gradient praticamente una variabile definita in questo modo. Qui su questo test cancelliamo questo perché al momento non ci interessa. Ok? Se andiamo a vedere qui, mi dice che questa classe potrebbe essere marcata come immutabile. Non lo vedremo questa sera. Andiamo avanti, poi andiamo a vedere altre differenze. A questo punto, qual è la differenza? Prima abbiamo messo i const e final. Qual è la differenza tra final e const? Allora, intanto vi faccio vedere. Qui possiamo mettere final. Ok? E a questo punto, questo, guardate cosa posso fare. Una volta che metto final, si posso aggiungere il const. Alberto, prima ci avevi detto di toglierlo, adesso invece lo rimetti. Allora, dobbiamo capire bene la differenza tra const e final. Final indica che una variabile può essere assegnata solo una volta e il suo valore non può essere modificato. Prendiamo ad esempio C Sharp è quando mettiamo un private set su una property. Ok? Quindi, tu assegni la variabile la prima volta, solitamente nel costruttore, e non la puoi più modificare. Cioè, tu la setti e poi è come se diventasse un cost. Ok? Quindi, non è necessario che il valore sia conosciuto al momento della compilazione. Cioè, compile time non è necessario che sia conosciuto e può essere assegnato durante l'esecuzione del programma. Quindi, a runtime. Ok? Const, invece, significa che il valore della variabile è conosciuto al momento della compilazione. Mi raccomando. Const significa che il valore della variabile è conosciuto al momento della compilazione. E non cambierà mai. Mai. Quindi, cosa succede? Che Flutter, l'utilizzo di const in Flutter, serve proprio per ottimizzare le prestazioni. Perché non deve ricostruire, ad esempio, widget marcati con const. Cioè, li renderizza la prima volta e poi non li renderizza più. Perché non ci saranno variabili all'interno che cambieranno, ad esempio, lo status di quel widget. Se noi mettiamo un numero che continua a incrementarsi, ovviamente questa è una variabile che cambia. E quindi non possiamo marcarla come const. Quindi, in quel caso, magari la marcheremo come final, ma la setteremo soltanto la prima volta. Ok? Ritorniamo al nostro esempio. Quindi, mettendoci final string, posso riutilizzare a questo punto il const, come anche qui. Posso metterlo qui. Perché? Perché è vero... Possiamo anche metterlo sopra, vabbè. Perché è vero che setto la prima volta la variabile, ma poi non la cambierò più. Ok? Se io qui mettessi text uguale a pippo, vedete, ve lo sto dando come errore. Perché text è marcata come final. Quindi non la posso modificare. Perfetto. Quindi abbiamo, ad esempio, messo il testo. Ok? Ora, supponiamo che vogliamo mettere nel costruttore qui del gradient, magari anche la possibilità di definire dei colori. Quindi, mettiamo un altro final. Qui faremo una list di color. E qua, chiameremo colors. Ok? E ci mettiamo, magari, il punto di domanda per marcarlo, che è nullabile. Che significa che non è necessario che questa variabile sia settata. Come vedete qui, mi sta dicendo che tutte le variabili tipo final devono essere inizializzate. Ma colors non lo è. Quindi dico add. Me l'ha aggiunto in imid parameters. Ok? Quindi qui c'ho colors. Cosa ci posso fare a questo punto? Qui, nell'assegnazione di colors, che posso fare? Controllo se colors è settato. Altrimenti, cioè, passo colors a colors, oppure gli passo i valori di default. Perchè mi da invalid? Ah, giusto. Questo cost devo toglierlo via. Ecco qua. Quindi cosa ho fatto? Nel caso in cui colors non sia definito nel imid parameters, funziona di default corrente e orange. Salviamo. Proviamo a fare un reload. Vedete, errori non ci sono. Ma, a questo punto abbiamo aggiunto una nuova variabile e qui nel main, ad esempio, che posso fare? Posso dirgli colors, due punti, color, punto, magari facciamo un bel purple, colors, punto, bel, che ne so, blu. Ok, quindi abbiamo definito i colori diversi. Adesso andiamo a ricaricare e vedrete, ecco qua, è cambiata. Perchè il texto lo mette nelle tonde, colors dentro le graffe? E' quello che dicevo prima, perché qui abbiamo usato il test, il position argument e qui invece l'abbiamo definito come named parameter. Questo è un position parameter, quindi deve essere posizionato. Se io qui mettessi colors, significa che lo renderei posizionale. Quindi il secondo parametro per creare questo widget, infatti mi stanno dando un errore, deve essere colors. Se lo metto qui invece è, diciamo, posizionale. Può essere opzionale perché l'ho marcato col punto di domanda. Se qui togliessi il punto di domanda, quindi diventa obbligatorio, perché ovviamente questo, togliendo via il punto di domanda, non è nullabile. Qui mi dà un errore e mi dice che siccome colors è di tipo required, devo aggiungere la keyword required. A questo punto funziona tutto. Però nel nostro caso volevamo dare l'opzione di settare i colori, quindi marchiamo colors col punto di domanda e lo mettiamo come parametro posizionale. E quindi adesso abbiamo lo sfondo con il violetto e il blu. Ma cosa posso fare anche? Posso, ad esempio, anche creare una specializzazione di questo componente. Ad esempio, facciamo di nuovo colonna, punto purple, ok? bis.text e qui diciamo super.key, virgola, e qui possiamo dargli bis.colors uguale colors punto, magari mettiamo un purple, virgola, colors punto, e gli diamo white, ok? Ok, quindi abbiamo creato, adesso perché non gli piace, ovviamente, niente, non mi fa leggere, non so perché, ma non mi fa, niente, non mi fa leggere l'errore, vabbè, salviamo e lo mandiamo in errore, vediamo subito. Ok, constant expression, try insert, cost, giusto, ci mettiamo cost, perfetto. Ok, quindi abbiamo creato, anzi, invece di purple, variant 1, vai, variant 1, quindi abbiamo creato variant 1. Adesso, se andiamo su main, e vogliamo usare questa variante, senza i colori, cancello tutto, qui posso fare punto variant 1, e quindi uso la variante 1 di questo componente. Facciamo un reload, ed ecco qui, un pink che va fino al bianco, carino, no? Quindi posso anche creare delle varianti sulla base delle variabili del mio componente, che sto creando. Allora, iniziamo a divertirci un pochino, andiamo a metterci un'immagine, perché così, anzi, facciamo un'altra cosa. Prima, questo hello world, lo customizziamo, perché adesso è troppo piccolo, si vede poco, no? Qui, tra i vari parametri, ad esempio di questo widget, e generalmente i widget funzionano quasi tutti in questo modo, soprattutto quelli visuali, qui abbiamo lo style, in questo style noi facciamo, eh sì, in questo caso qui è un text style, perdon, text style, dopo vedremo un altro modo, e qui posso definirgli, ad esempio, il colore del testo, o il font size, possiamo mettere ad esempio 48, salviamo, vediamo un po', ecco, è già, magari 48 è troppo, facciamo una 24, ecco, è già un po' più grande, e qui possiamo metterci, magari, che ne so, weight, fontweight.bold, facciamo un grossetto, diventa grosso, e magari possiamo metterci il colore, 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 colore ecco qui non mi fa vedere riscegliamo adesso si che dovrebbe andare infatti sta cambiando il from rgp qui mettiamo 255 ci mettiamo questo blu a questo punto abbiamo un colore leggermente diverso eccolo qua ok